Oggi siamo a Sacrissoi, abbiamo incontrato una nuova amica, Anita Gilseth, nel proprio pubblico, Anita Gilseth, e poi, Anita, vorrei descrivere ai nostri amici cosa prepari, cosa vendi e parlare del vostro attività, del vostro pubblico. Benvenuti a Sacrissoi, è una isla famiglia che ci sono stata nella famiglia da 1880. Abbiamo prodotto un po' di Stopa Fiso per l'Italia, è la produzione principale, anche per l'Africa. Abbiamo un piccolo delicace shop qui. Come vedete, abbiamo aperto dal settembre di May a settembre durante la settimana, abbiamo molti contenoti delicacioni dal nostro materiale, come seri statati, prodotti, prodotti cod, prodotti col literi wheat e saliceri. Molte cose e cose, e poi compri Coronavirus in altre piccine, local companies, nice cheeses, nice meat, jams, fruits, everything. So we have a lot of nice things here to eat. We're very proud of the food in Luput Miss, a lot of different things. We follow a very nice season because now in the winter we have a lot of cod products and it changes a lot during the year. We have a very nice salmon in the summer, we have nice berries in the orchids. A lot of different things. Okay, perfect. Thank you so much for your help and from me and Marco. Welcome.